Monivali alla Spezia per parlare di Palestina in un convegno che definisce il popolo palestinese solo ed oppresso. Sì, il popolo palestinese oggi io credo che sia il popolo più abbandonato al mondo perché non solo è oppresso, occupato, colonizzato, i suoi giovani, i suoi bimbi, le sue donne, i suoi vecchi sono sottoposti a uno stilicidio di vessazioni interminabili ma è anche un popolo che subisce una vera e propria orchestrazione di stile mafioso sul silenzio che lo deve circondare. Non solo lo si sottopone a ogni sorta di abuso ma si vuole anche che non se ne parli. Allargando un po' lo sguardo al Medio Oriente politicamente assomiglia molto ad una polveriera come cambia secondo lei anche per il nostro paese e per l'Occidente lo scenario dopo la recente uccisione da parte di un raid americano del generale Suleyman? L'uccisione del generale Suleyman voluta da Donald Trump della cui salute mentale peraltro io dubito non è una cosa dissennata ma fa parte di una strategia. Gli Stati Uniti non riescono a vivere senza un nemico. Naturalmente quando parlo degli Stati Uniti parlo dell'establishment, non il popolo americano. Gli Stati Uniti hanno sempre bisogno di un nemico. Se non hanno un nemico tutta la loro costruzione di propaganda strutturata su delle abilissime menzogne, crollerebbe di colpo. Perché gli Stati Uniti sono un impero vero e proprio, solo che adesso ci sono i cinesi e anche i russi sono tornati ad essere abbastanza cattivelli secondo lo stardano americano. E allora purtroppo la nostra speranza sta un po' in questi autocrati che contrastino questo sistema americano che camuffato con la scusa della difesa della democrazia e della libertà si permette ogni tipo di arbitrio possibile su questa terra. tipo andare a ammazzare. Qualsiasi essere umano possono ammazzare. Dicendo che questo corrisponde, ed è la frase più sinistra che esce dall'amministrazione americana, «our national interest».